C'è ancora tanta incredulità nel centro storico di Cremona dopo l'impresa della Cremonese in Coppa Italia. Alla vigilia della gara molti infatti facevano già la conta dei gol subiti dalla capolista Napoli. Era una partita praticamente scontata, si pensava di dover contare solo i gol che avrebbe preso, invece è stata una bellissima partita, molto impegnativa e molto impegnata, e quindi è stata una netta sorpresa. Loro hanno giocato con la squadra B, però anche la squadra B del Napoli dovrebbe batterla la Cremonese. Penso che ha fatto una bella partita, che nessuno se l'aspettava, un passaggio di turno importante per la Cremonese che gli dà un pochino di valore e un po' di coraggio per andare avanti in campionato almeno. A convincere i cittadini l'atteggiamento in campo. Una prima partita di un nuovo allenatore non pensavo che ci fosse una svolta del genere. Cioè, ieri sera è stata una vera partita, la prima volta che vedo, dopo la partita con la Juventus, una squadra che giocava, organizzata soprattutto, che sapeva cosa voleva. Adesso lui ha fatto due allenamenti, però quello che era importante secondo me è l'atteggiamento che ha cambiato, una squadra più convinta, più dura. Ora c'è chi è fiducioso per la salvezza ed è ancora più soddisfatto del mister Ballardini. Certo che ci credo. Il Cremonese merita di rimanere in A perché è una squadra che secondo me merita di rimanere in A. Sì, magari più fiducia che dieci giorni fa, senz'altro. Però io dico, al di là che riesca a salvarsi o meno, però se dovessi vedere una squadra che gioca come ha giocato ieri sera, puoi vincere, puoi perdere, però c'è soddisfazione.